Una violenta lite familiare finita a colpi di pistola. È successo ieri mattina a Molfette, in via La Torre all'angolo con via Piacente, dove padre e figlio, entrambi pregiudicati molfettesi di 65-35 anni, hanno avuto un'accesa discussione. I due sono venuti presto ad insulti, poi alle mani, ed è partito un colpo da un'arma semi-automatica. I residenti della zona, appena si sono accorti dell'accaduto, hanno lanciato l'allarme ai carabinieri del comando, che giunti sul posto hanno ritrovato sul marciapiede uno Giva calibro 9x21 e altri due proiettili non esplosi poco più avanti, come se qualcuno avesse scarellato l'arma usata. I militari hanno accertato l'assenza di feriti e dalle prime ricostruzioni pare che il 35enne non fosse solo durante l'acceso confronto con il padre. È probabile quindi che qualcuno dei presenti sia intervenuto per prendere parte durante la discussione. Ora i carabinieri, guidati dal capitano Vito Ingrosso, con le analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e alcune testimonianze cercheranno di ricostruire la vicenda e recuperare l'arma, probabilmente detenuta illegalmente da che ha fatto fuoco e poi se ne è liberato.